Questo avvicinamento col Mazzara Calcio, un'eventuale fusione, come la vede? Col Mazzara Calcio? Io in questo momento posso solamente parlare della Mazzarese, quindi magari io sono qui per la Mazzarese, altri tipi di progetti in questo momento non li conosco. In futuro non so, magari potrebbe essere bello per quanto riguarda la città di Mazzara del Vallo, però in questo momento non so se c'è questo progetto già avanzato. Per quanto riguarda, posso parlare come dicevo della Mazzarese, devo dire che la Mazzarese è una realtà abbastanza graziosa, so che ha un progetto ambizioso, mi è piaciuto appunto sposare questo progetto perché lo vedo veramente di gran lunga qualcosa di fantastico. Quali sono gli obiettivi della Mazzarese? In questo momento gli obiettivi rimangono quelli iniziali, di cercare di arrivare più in alto possibile. Io sono arrivato qua per lavorare e cercare di organizzare adesso che si apre il mercato un organico abbastanza competitivo. Adesso penseremo appunto a magari, ne so, arrivare anche ai play-off, quindi ripeto, cercare di arrivare più in alto possibile, già stiamo lavorando per questo.